E' tanto uguali per tutti ragazzi, io sono MisterYuke e bentornati in questo nuovo video Siamo arrivati al secondo speciale delle top 5 fan clip dedicati interamente a Rainbow Six Siege Come sempre vi ricordo da subito di lasciare un bel mi piace, un bel commento a fine video Ovviamente se vi sono piaciute le clip di oggi Vi ricordo che potete votare la vostra clip preferita in alto a destra E vi ricordo, è tutto un ricordo, è tutto un ricordo che in descrizione trovate il link per entrare nel gruppo Telegram Si chiama Team Ryuk Rainbow Six, è organizzato, creato per giocare a Rainbow Six Siege con me ed altri membri del gruppo E che se volete giocare con me su Rainbow Six Siege potete farlo scrivendomi su Instagram Ultimo dettaglio a fine video, quindi se avete le clip non chiudete il video Ma partiamo subito con l'analizzare le clip di questa top 5 speciale Rainbow Six Siege In quinta posizione troviamo Tosta Papere che ci porta un ace ovviamente Su Rainbow Six Siege che ve lo dico a fare Siamo in una situazione di 4 contro 4, loro sono in due ragazzi Pulse che è il nostro Tosta Papere e Kestol che è l'unico compagno Ragazzi 2 contro 5 2 contro 5 è una situazione difficilissima da gestire perché 3 nemici in più sono davvero tanti Il nostro Tosta Papere esegue la prima uccisione Qui è il muro rotto e non se ne accorgono i nemici E segue due uccisioni in questo momento 1 contro 3, il suo alleato Kestol è appena morto Vede con il Pulse che ci sono due nemici qui Cerca di sparare in Wallbang ma non riesce perché anche i nemici stanno sparando Attenzione, prova a tirare un C4 in Wallbang Uccide un nemico in Wallbang con il C4 1 contro 2, solo due nemici Uccide anche il penultimo affacciandosi piano piano sdraiandosi Uccide anche il penultimo affacciandosi sdraiato piano piano Attenzione perché c'è Twitch in questo momento che lo sta disturbando Il primo drone di Twitch è andato Controlla ancora con il Pulse dove siano i nemici L'ultimo è Twitch, abbiamo detto, dato che c'era il drone proprio lì che ha distrutto poco fa E' rimasta solo 29 di vita Attenzione arriva anche il secondo drone di Twitch Li toglie altri 10 di vita, 19 di vita ragazzi Veramente basta due proiettili per mandarlo a terra Continua a controllare dove si è il nemico Lo vedi in questo momento Cerca di seguirlo con il sensore di battiti cardiaci Eccolo, lo vede in questo momento E lì dietro al muro, attenzione perché si sta affacciando piano piano Toglie il sensore di battiti Vedi la testolina di Twitch che uccide portandosi a casa un ottimo clutch 1v5 Ed in quarta posizione troviamo Chalzman che ci porta un Ace con Blitz Se la giostra molto bene in questa parte di mappa al nostro Chalzman per eseguire un bellissimo Ace Comunque vede il primo nemico che non riesce a uccidere Attenzione perché vi lanciato il C4 e fatto esplodere proprio vicino a un alleato Molto fortunato in questo caso un gioco da ragazzi per uccidere il primo nemico Attenzione uccide anche il secondo che si affaccia piano piano con lo scudo Con la sua pistolina Ottima velocità di sparo per lui e riesce a uccidere anche il secondo Situazione di 2 contro 3 E in una situazione abbastanza difficile il nostro Chalzman Perché i nemici sono tutti lì Attenzione perché scende Valkyria che fa fuori Anche lei 3 contro 2 Vedi un altro nemico lì che si affaccia sulle scale Prende anche lui incredibile mira con la pistola riesce ad uccidere tutti 3 contro 1 La bomba è sopra Cercano di andare a piazzare il disinnescatore che ha proprio il nostro Chalzman Disinnescatore è piazzato in questo momento è morto un suo alleato con Kapkan È morto anche un altro Ucciso dall'ultimo nemico Attenzione si trova 1 contro 1 Riesce ad uccidere anche l'ultimo nemico Eseguendo un fantastico Ace con Blitz Ed in terza posizione troviamo Panic Che ci porta un bellissimo Ace Con il Glezz lo utilizza molto bene in questa mappa Operatore inoltre Glezz che viene utilizzato molto spesso Proprio in questa mappa Soprattutto quando i nemici si mettono al piano inferiore Comunque situazione di 2 contro 5 La clip vedete è velocizzata Ma non è stata fatta da me Mi è stata già inviata così Uccide primo nemico Nella bocchetta per i droni Ti vengono spottati una serie di nemici Che sono tutti quanti vicino a lui Attenzione vede Kestol che cerca di piazzare il suo muro Ma viene ucciso perché lo challenge Gravissimo errore di Kestol Che esegue un'azione veramente molto stupida Challengeare un nemico fuori In difesa ragazzi non si deve mai mai challengeare E intanto il nostro Panic è rimasto da solo Lui contro 3 Manca Caveira, Jäger e Rook Si affaccia Te vede Caveira Rimane con 2 di vita Riesce a ucciderla Ragazzi subito danni veramente molto molto gravi L'obiettivo è lì A pochi metri Con 2 di vita ragazzi deve stare veramente molto attento Rook e Jäger Non sappiamo quanta vita hanno Si affaccia piano piano Vede qualcuno lì Dello scudo Che si affaccia in questo momento Lo liscia completamente Il nemico E riesce ad ucciderlo Il nostro Panic Anche l'ultimo Si affaccia Nessun proiettile Colpisce Panic E si porta a casa Un ottimo Ace Ed in seconda posizione Troviamo Phase Lux 0-11 Che ci porta un Ace In 20 secondi Decide di andare a prendere i nemici Allo spawn Possiamo definirlo Quasi uno spawn kill Esegue una doppia di Edgeshot in questo momento Vedo un altro nemico Altro Edgeshot 5 contro 2 Mancano soltanto 2 nemici Sono lì Vedo gli spari Si affaccia Spara Ed esegue la doppia Ace Spettacolare La prima posizione invece Sala giudica Mike Flower Che ci porta anche lui Un Ace Prima uccisione in questo momento Sto utilizzando Ivana Sono rimasti 2 contro 4 Ivana Che lui E Jackal Contro Jäger Mira Smoke E Kestol Ragazzi 1 minuto e 20 dalla fine del round Piazza le granate di Ivana Si affaccia la finestra Vede un altro nemico Che uccide i Netshot 2 contro 3 Riprende in mano L'arma speciale di Ivana Ne piazza 2 In questo caso Che fa esplodere in questo momento Si affaccia piano piano Al buco Che ha appena Creato Vede che c'è il Kestol lì Allora decide di cambiare strategia Passa da dietro Stenzione Perché sono già stati creati i vari Buchi Qui dal buco del muro Vede un altro nemico 2 contro 2 Attenzione c'è uno scudo Blindato Messo davanti alla porta Si affaccia Prende in testa Il penultimo nemico Manca soltanto l'ultimo Non sanno Se il nemico è lì O è fuori Tenta di Rushare allora Entra nelle bombe Controlla in giro Se c'è l'ultimo nemico Vede e le spari Esce in prefire Decide di piazzare la bomba In questo momento Attenzione perché il nemico Ha ucciso l'alleato Allora piazza Decide di scappare Non ricarica Perché perde troppo tempo Prende l'arma secondaria E aspetta Cerca di prefireare Varie volte Si affaccia spesso Per cercare di vedere Dove è il nemico Ma il nemico Rimane lì Cerca di wallbangare Attenzione perché anche Il nemico ha provato A sparare i wallbang Nessuno di due E' stato colpito Il nemico stupidamente Rush viene fatto fuori Dal nostro Mike Flower Bene ragazzi Questi erano i 5 clip Che ho scelto io Per lo speciale Di Rainbow Six Siege Se avete di meglio Mi raccomando Mandatemelo nel link In descrizione Seguendo tutte le regole Che vi appaiono Nel modulo Vi ricordo che Se siete degli appassionati Di Rainbow Six Siege E avete piacere Di giocare con il sottoscritto Potete scrivermi Su Instagram Il nome è questo qui Dovete scrivermi lì Il vostro IDPSN Il vostro livello E il vostro rank Io vi risponderò Pian piano giocherò con tutti Un po' di pazienza Che un po' di richieste Un bel po' di richieste anzi Comunque ragazzi Se vi è piaciuto il video Vi ricordo di lasciare Un bel mi piace Un bel commento Mi raccomando Supportate ancora meglio Questa serie Perché ci tengo tantissimo Qui da MrRuke Un saluto Noi ci vediamo Con un prossimo video Tanta one per tutti Ciao